Una cosa fondamentale di Derelmedina, oltre a oggetti meravigliosi che preserviamo in questo museo, è la parte documentaria, ovvero i papiri che ci raccontano di tutto ciò che a Derelmedina avveniva e che ci raccontano la vita a partire dal cosiddetto giornale della necropoli che è da noi conservato e documenti unici che rendono il museo egizio davvero una collezione invidiata da tutto il mondo e così apprezzata e visitata e studiata. Beh, sarebbe impossibile farvi vedere tutti i nostri papiri e ricordo che però se volete approfondire questo argomento già sul nostro sito web è possibile vedere quanti papiri abbiamo messo online con trascrizioni e traduzioni. Voglio però farvi vedere alcuni dei documenti che qui sono preservati. A partire da questo, famosissimo, che quasi tutti conoscono che è il papiro dello sciopero. Siamo nell'anno 29 del regno di Ramses III e i lavoratori si rifiutano di continuare le loro operazioni. Dicono di smettere di lavorare e di andare a sedersi fuori dal tempio di milioni di anni di Tutmosis III. Permettetemi un attimo di definire cos'è il tempio di milioni di anni. Nel nuovo regno le sepolture regali vengono a trasformarsi. I sovrani non sono più sepolti nelle piramidi e le piramidi non sono solo, non erano solo la sepoltura del sovrano, ma erano un insieme di luoghi che permettevano il proseguimento del culto. Quindi vi era un tempio della valle, vi era una via processionale, vi era un tempo mortuario, quindi la piramide non conservava solo il corpo del defunto, ma permetteva che il suo culto potesse proseguire. Ora, in questo periodo, le tombe vengono costruite nella Valle dei Re. Sono dei luoghi sotterranei che vengono raggiunti attraverso un dromos. Ci si incune nella cavità della terra per raggiungere, attraverso corridoi decorati con testi importanti, la camera sepolcrale. Ma quello è il luogo della trasfigurazione del corpo del sovrano, il luogo in cui il sovrano può diventare trasfigurato, può raggiungere le divinità e continuare a compiere un periplo attorno alla terra assieme al dio sole. Nel nuovo regno il culto funerario quindi subisce delle modificazioni, mentre la piramide poteva essere il luogo non solo di conservazione del corpo, ma dove poteva essere anche perpetuato il culto del defunto, ora le tombe che sono delle cavità che si incuneano nella terra, con questi dromos che permettono di raggiungere in profondità la camera sepolcrale, con dei corridoi decorati, con testi che servono alla preservazione e la trasfigurazione del corpo del sovrano, il culto deve essere portato avanti in un altro luogo. Ecco quindi che sorgono i cosiddetti templi funerari o templi di milioni di anni, di milioni e di anni perché devono garantire per l'eternità che il culto del sovrano possa andare avanti. E questi templi sono situati sempre a Tebe Ovest, però distanti rispetto alla Valle dei Re e allora i nostri operai decidono nel ventinovesimo anno di Ramses III di smettere di lavorare. Se ne vanno dalla Valle dei Re e dice il testo vanno a sedersi fuori del tempio funerario di Tutmosi III. Dicono che non torneranno al lavoro, dicono di mettersi in contatto con il loro Signore perfetto, con il Faraone, perché da due mesi non ricevono unguenti, non ricevono panni, non ricevono cibo e finché non verranno pagati non proseguiranno con le loro attività. Sappiamo, anche se il testo questo non ce lo riferisce, che torneranno poi a lavorare, che la situazione si risolverà, ma capiamo anche in quale crisi economica profonda l'Egitto stia entrando. Sappiamo, infatti, che da lì a poco, nell'età di Ramses XI avrà fine il cosiddetto nuovo regno e entreremo nel terzo periodo intermedio, un momento in cui il centro di il potere non sarà più unico, ma il potere politico sarà diviso all'interno dell'Egitto e in cui l'Egitto conoscerà anche un momento di compressione economica. Non saranno più in grado, ad esempio, di andare in Libano per reperire il legno di cui avevano bisogno per costruire i sarcofagi. Ecco quindi che questo è un documento storico importantissimo perché ci fa capire anche le trasformazioni che il paese sta subendo. Di grandissima importanza sono anche i frammenti del cosiddetto Giornale della Necropoli. Giornale che ci racconta quello che avveniva, chi andava al lavoro, chi non andava al lavoro, le motivazioni per cui non andava e avvenimenti storici di un'incredibile importanza come questo che ci annuncia la morte di Ramses III e la salita al trono di Ramses IV. E' bellissimo anche vedere in che modo questo viene detto. Il falco è volato in cielo, vale a dire la maestà del re, Uzetmar, re Meriamon, figlio di Ra Ramses III, signore di Eliopoli. E il nuovo sovrano adesso è seduto sul trono di Oro. Il falco è volato in cielo. Non si dice il sovrano è morto, ma il falco che rappresenta Oro, Oro che è il figlio di Osiride e che è il vendicatore del padre e che è il dio della regalità e che si incarna di sovrano in sovrano, vuole in cielo per poi incarnarsi di nuovo nel sovrano successivo il giorno dopo. La linea dinastica è garantita, la continuità di Maat in Egitto è garantita e questo è simbolo di stabilità e di continuità all'interno dell'Egitto. Sempre da parte del giornale della Necropoli vi è quest'alto frammento molto importante, che risale quindi all'epoca di Ramses IV, dove il sovrano dice di aumentare a 120 il numero degli operai che devono lavorare alla sua tomba. Certo, tra i compiti che il nuovo sovrano aveva era quello di garantire che la costruzione della propria tomba potesse andare avanti. Questo non ci deve stupire, quando si arrivava all'apice del curso sonoro, ma era ovviamente importante dare un'accelerazione alla costruzione della propria tomba, che era la casa per l'eternità, il luogo in cui il sovrano sarebbe vissuto per sempre. E proprio dello stesso sovrano Ramses IV, il Museo Egizio conserva uno dei documenti più importanti che ci siano pervenuti dall'antico Egitto, che è la pianta della tomba stessa di Ramses IV. Vedete, vi è il corridoio, una porta, un secondo dromos, un'altra porta, una stanza che viene qui indicata e quest'altra porta ci fa poi entrare all'interno della camera sepolcrale, dove al centro si trova il sarcofago di Ramses IV, di cui qui vediamo il coperchio. È un documento importantissimo perché è un progetto architettonico in cui non solo la pianta è resa, ma in hieratico, in questa scrittura corsiva, vengono anche indicati che tipo di ambienti sono e le loro dimensioni. Questo ci attesta in che modo si potesse costruire. Il fatto di avere un disegno architettonico ci fa capire anche quale fosse la capacità di pensare in astratto e di progettare in astratto, di modo che poi gli operai potessero lavorare all'interno della Valle di Erena. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.